Ascoltiamo il dottor Chiamenti, pediatra e presidente della federazione italiana dei medici pediatri che ci parlerà del ruolo del pediatra nel processo diagnostico in età evolutiva. Grazie. Grazie per l'intervento anche da parte del ministero per cui vogliono che i pediatri si esprimano. Buonasera, grazie dell'invito. Io sono il presidente della federazione italiana dei medici pediatri e quindi sono titolato un po' a parlare rappresentando il punto di vista della categoria rispetto al problema che stiamo trattando in questo convegno. Che poi è quello di come arrivare a fare una diagnosi precoce rispetto ai disturbi dello sviluppo neurocognitivo del bambino. Allora avrò un quarto d'ora, venti minuti? Più o meno mi date voi il tempo. Il pediatra di famiglia comincia a prendere in carico come sapete i bambini obbligatoriamente perché il sistema sanitario nazionale rende la scelta del pediatra obbligatorio fin dalla nascita. Quindi ha una grossa opportunità per incominciare a conoscere la famiglia prima di tutto perché il bambino va sempre visto nel contesto della famiglia e secondariamente il bambino che incomincia il suo sviluppo. Noi facciamo una presa in carico sotto l'aspetto organico ma nel corso dei 35 anni che la pediatria di famiglia ha operato nel nostro paese abbiamo visto che proprio grazie agli interventi delle vaccinazioni e dello Stato generale di salute la patologia organica è sesa molto e è aumentata un po' la patologia cronica che ha altre complessità e richiede una presa in carico completa con più operatori e si è sviluppato invece molto l'aspetto della prevenzione perché soprattutto con i bambini prenderli in carico sani il più delle volte per fortuna è così e mantenerli sani il più a lungo possibile e portarli all'età adulta in determinate condizioni è una mission che è specifica della pediatria di famiglia. Per fare questo noi abbiamo messo a punto una quindicina di anni fa, vent'anni fa anche un programma di bilanci di salute e questo è importante e finito quello che io dovrò dirvi perché questi bilanci di salute che sono delle visite filtro programmate se ne fanno 5 nel primo anno di vita a 1, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi e una nel secondo anno di vita tra i 18 e i 24 mesi e una nel terzo anno e poi altre, una a 6, una nell'adolescente e nelle realtà regionali che hanno fatto scelte più estensive. In questi bilanci di salute al di là dello sviluppo cosologico un aspetto che abbiamo sempre coltivato è quello del sviluppo neuromotorio, del sviluppo psicomotorio e in questo contesto si cala un po' il nostro compito rispetto alla possibilità che abbiamo di individuare precocemente i disturbi che un bambino può mettere in atto. Però questa che è detta in termini medici potrebbe essere una cosa molto semplice nella realtà è un po' più complessa perché se a fronte della possibilità di individuare rapidamente delle alterazioni rispetto allo stato di normalità sotto il profilo dello sviluppo organico quello che rientra nella sfera psichica è molto più psichica comportamentale e molto più complesso. È molto più complesso anche perché parallelamente a questo aspetto maturano anche gli aspetti legati al calo delle capacità genitoriali da parte della famiglia che noi nel corso degli ultimi decenni abbiamo visto diventare sempre meno competente non rispetto a quello che può essere una generica affermazione dell'essere genitori ma all'essere genitori nei panni di un genitore che deve svolgere un'azione educativa vera e propria e quindi anche relazionale. In realtà è luogo comune che i figli sono sempre meno sempre più preziosi e lo sforzo che si deve dedicare e l'attenzione che gli si deve dedicare viene dedicata molto spesso con enormi sensi di colpa perché vengono abbandonati vengono abbandonati per modo di dire affidati all'asilo nido ai nonni e quant'altro e questo fa sì che poi le risposte che i genitori danno ai propri figli molto spesso sono più delle risposte di compensazione che non di educazione per cui per esempio la prevalenza del sì rispetto ai desiderati del bambino è di gran lunga maggiore rispetto alla prevalenza del no e voi sapete che per educare un bambino il no ha un valore estremamente elevato perché introduce tutta quella capacità di parametrarsi rispetto ad una realtà che poi lo abitua ad accettare i conflitti in età successive. Questo percorso è un percorso confondente perché di fatto è quello che nei limiti relativamente ampi direi ristretti che il pediatra ha di osservare il rapporto tra il genitore madre e figlia che sia e come si comporta il bambino a noi può sfuggire molto spesso la saper cogliere determinati atteggiamenti che sono sindromici di alcuni disturbi della sfera psicorelazionale che invece sono quelli che almeno nel contesto di quello che discutiamo stasera ci interessano di più. Se accorpiamo questo al fatto che negli ultimi 15-20 anni abbiamo visto un aumento progressivo dei disturbi della sfera psicorelazionale i disturbi specifici dell'apprendimento che esplodono poi tutti nell'età scolare perché il dramma di tutte queste situazioni è che i primi segni si manifestano in un'età in cui i bambini sono grandi e quindi non riesci grandi diciamo dall'età scolare dei sei anni in su e quindi non riesci a fare quell'opera di tamponamento che sarebbe necessaria porla in perioda precoce precedente. Questo si accorpa a qualcosa di molto più complesso e grave va in parallelo diciamo che sono invece quei bambini che non hanno solo dei disturbi della sfera specifica dell'apprendimento oppure del comportamento oppure in maniera molto confondente dei banali disturbi del sonno dell'appetito e di altre situazioni che di per sé possono essere rivelatori del disagio del bambino ma in realtà non sono rivelatori di una vera e propria patologia rientrano più in quella sfera che vi dicevo prima delle difficoltà relazionali che portano il bambino ad esprimersi in una certa modalità. Quello che invece ci preoccupa molto di più e sempre di più diciamo è quello di intercettare i disturbi legati all'autismo e alla sfera autistica in senso lato dove fare diagnosi prima o dopo i 18 mesi cambia tutto. Noi sappiamo noi pediatri che forse non siamo i super esperti di questo aspetto e dobbiamo in questo ricorrere alla consulenza dei neuropsichiatri infantili o degli psicologi per farci aiutare però abbiamo abbastanza chiara l'idea che più tardi fai diagnosi rispetto a queste problematiche e più poi sarà difficile l'opera di recupero. Per cui in questo senso sono state approntate anche all'interno di alcune realtà la Toscana in questo senso ha fatto un percorso di tutta la categoria di pediatri molto dedicato degli strumenti come l'emchat per riuscire a intercettare queste problematiche che però di fatto non sono intercettabili con così tanta facilità per cui anche laddove questa viene fatta una certa quota diciamo di bimbi che hanno un problema sfuggono in ogni caso. Ciò non toglie che comunque l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di essere in grado di filtrare tutto questo prima o entro i 18 mesi. In questo senso le realtà che ci favoriscono di più sono e io parlo per conoscenza un po' di tutta l'Italia sono quelle in cui c'è una scolarità precoce del bambino. Quando il bambino comincia a frequentare l'asilo nido fin dal primo anno e laddove c'è un rapporto abbastanza non dico stretto ma esiste un rapporto tra le strutture che i bambini frequentano e i medici curanti diciamo che l'asilo nido di suo si presta molto bene per individuare bambini che hanno dei problemi di relazione e molto spesso nell'esperienza di molti pediatri i suggerimenti che vengono dati dagli operatori dell'asilo sono più preziosi di quelli che si riesce a cogliere attraverso i classici strumenti con cui noi possiamo al di là delle maciate e di altre cose analoghe possiamo approcciare la famiglia che sono l'anamnesi l'esame obiettivo e la visualizzazione del rapporto che esiste del bambino con il genitore che viene a visita o del bambino con il pediatra che lo visita tutto questo ci permette di darci quei segnali di una patologia che ripeto e mi ripeto non è una patologia d'organo per me fare diagnosi di broncopolmonite è la cosa più semplice di questo mondo fare la diagnosi di un disturbo del comportamento invece no proprio per tutti i fattori che vi ho detto e quindi questi strumenti l'anamnesi o quant'altro sono sicuramente importanti però di per sé non sufficienti per individuare i soggetti a rischio e poter poi far intervenire il consulente d'organo ecco in questo senso vorrei dire che siccome adesso non so quanti neuropsichiatrici infantili ci siano qui abbastanza allora abbiamo una piccola querelle in atto noi pediatri con voi che forse a loro può interessare relativamente poco però secondo me interessa molto perché è sindromico di quello che invece è il problema il core del problema che dobbiamo trattare e cioè dire che il neuropsichiatria infantile può intervenire solo ed esclusivamente su una segnalazione di un pediatra che avendo la presa in carico del bambino gli dice guarda che secondo me qua sotto ci potrebbero essere dei problemi oppure interviene quando ma a quel punto il gioco è fatto quando ormai è così evidente che il bambino ha dei problemi che un qualcuno lo indirizza al neuropsichiatra infantile allora la vera scommessa che noi dobbiamo mettere in atto e di questo si tratta perché su questa problematica ci stiamo ragionando molto sia con il ministero che con i piani di intervento che stiamo ipotizzando e con la revisione che noi vogliamo fare dei contenuti dei bilanci di salute perché i bilanci di salute fatti per i rilievi auxologici o gli aspetti di educazione e stile di vita sono importantissimi ma rispetto alla tipologia dei problemi che i bambini hanno oggi nel nostro paese non sono così importanti come invece arrivare a capire le problematiche della sfera neurocognitiva che stiamo vedendo stanno aumentando in maniera molto significativa allora all'interno di una revisione complessiva dei bilanci di salute vorremmo mettere appunto degli item precoci che ci permettano attraverso dei segni di allarme che vengono prima delle chat che si fa i 18 mesi e dai 18 mesi in poi e ci fanno nascere il sospetto che esista un problema poi non è detto che il problema ci sia se in un contesto familiare abbiamo una famiglia in fase di separazione una famiglia già separata e vi assicuro che non è inusitato vedere genitori che vengono a portarci il neonato e a 6-7 mesi arriva solo la mamma e gli chiedi dov'è il papà e gli dici ma mi sono già separata perché incompatibilità di caratteri cioè oggi succede con una certa frequenza quindi non è un problema una volta era un problema piuttosto remoto ma adesso è un problema piuttosto costante queste situazioni ovviamente sono confondenti rispetto a quello che è perché un bambino che cresce in quel contesto è un bambino che esprime il suo disagio attraverso sintomi e sintomatologia di varia natura senza parlare poi di disturbi degli organi sensoriali ma quelli in qualche maniera siamo più attrezzati per poterli intercettare anche precocemente e quindi ritornando un po' alla provocazione alla discussione se vogliamo che è quella di dire qual è il ruolo del pediatra che è il ruolo del neuropsichiatra infantile credo che siano due ruoli assolutamente complementari assolutamente necessari noi non abbiamo le competenze per fare né la presa in carico e neanche la definizione diagnostica precisa ma noi come pediatri dobbiamo e se non li abbiamo ce le dobbiamo dare le competenze per poter sospettare dove possa esserci un problema e fare la trasmissione dello stesso al rapporto che c'è con i consulenti specifici e credo che alla fine scusate sia proprio questo il problema di fondo e rispetto a questo problema abbiamo bisogno di formazione perché la formazione non finisse mai io sono quasi a termine della mia carriera pediatrica perché l'anno prossimo faccio 70 anni e di conseguenza e di conseguenza per definizione in pediatra convenzionato 70 non può più essere convenzionato però tuttora mi sento di poter dire che non si deve mai pensare di essersi formati abbastanza e anche per professionisti l'età media dei pediatri non è 70 ma è tra i 50 e i 60 quelli che operano sul territorio hanno bisogno di formazione quindi la formazione è un problema importantissimo è un problema sul quale dobbiamo puntare ci sono formazioni dedicate quella sugli aspetti dello sviluppo neuromotorio è sicuramente una di quelle importanti al di là della formazione prima ancora bisogna creare la sensibilità e il bisogno che il pediatra deve sentire rispetto a questi problemi credo di avervi detto tutto penso di sì sui vaccini ma non credo che sia un problema così allora diciamo che per quello che può interessare questa sala la bufola del secolo è l'associazione tra il vaccino antimorbillo e l'autismo questo è stato il punto di inizio di un'ondata di movimenti antivaccinatori che sfruttando quello che aveva pubblicato un medico inglese di una relazione tra la vaccinazione antimorbillo e l'autismo che portò l'Inghilterra a sospendere la vaccinazione per prudenza questo avvenne all'inizio degli anni 2000 facendo scoppiare immediatamente in Inghilterra un'epidemia di morbillo perché questa è un'epidemia di morbillo che portò a diversi morti tanto che furono costretti comunque a rimettere in atto la campagna vaccinale contro il morbillo e da lì comunque andarono a verificare la veridicità dei dati prodotti scoprirono che c'era sotto un falso clamoroso tanto che radiarono dall'ordine dei medici in Inghilterra il medico che l'aveva procurato ma questa sintilla che doveva finire lì anzi doveva essere il modo per dire finisse scoperto il colpevole finisse il problema in realtà ha innescato un movimento generale che ha una radice ben precisa perché ce l'ha una radice al di là delle speculazioni che possono fare i medici antivaccinatori la radice è che la gente e per gente intendo dire mamma papà nonni parenti e passanti perché poi il passaparola mai sentito che oggi vale molto meno perché oggi il vero canale comunicazione è internet con tutto quello che è l'accesso su internet su siti che possono dire quello che vogliono senza essere smentiti ha portato a cioè il vero la vera essenza del problema è che non si vedano più le malattie e se tu non vedi la malattia e non ti rendi conto che ci sono delle conseguenze pesanti legate a delle malattie che oggi stiamo tenendo sotto controllo grazie proprio alle vaccinazioni che vi ricordo essere nella triade delle tre delle tre interventi che hanno permesso di ridurre maggiormente il numero dei morti al mondo al primo posto c'è l'acqua potabile che è la cosa più banale però è quella che più di ogni altra risparmia vita umana al secondo non ci sono gli antibiotici che sono al terzo posto al secondo ci sono le vaccinazioni allora uno strumento così importante che riesce a incidere fortemente sulla salute della gente funziona nel momento in cui serve a tenere sotto controllo la circolazione dei virus e cioè quando raggiungi i tassi vaccinali che sono superiori a una certa quota che è variabile da malattia a malattia ma che mediamente si colloca sopra il 90% se tu scendi da questo tipo di copertura cominciano a crearsi i serbatoi di soggetti suscettibili e questi serbatoi fanno sì che scoppiano le epidemie oggi nel 2015 il morbillo malattia ha la stessa incidenza di encefalite con tutte le conseguenze delle encefalite uno a mille che aveva nel 1970 uguale identica perché nelle realtà dove ci sono le epidemie questo è il dato e se noi vacciniamo la popolazione i rischi legati al vaccino da morbillo è di uno a un milione ora va da sé che da uno a un milione a uno a mille non c'è partita però di fatto se tu non vedi i bambini che si ammalano dici ma che bisogno c'è di affrontare il rischio di quello a un milione senza rendersi conto di tutto e chi lo fa mi viene da dire davanti a tutti e lo dico pubblicamente che è in molta mala fede perché di fatto le vaccinazioni come dimostrazione reale di rischio non è sì ci sono i rischi da vaccini non è che i vaccini siano una pratica severa da qualsiasi rischio ma sono rischi osservati calcolati valutati e monitorati e laddove ci sono problemi il vaccino viene sottoposto immediatamente ad una revisione cosa che peraltro quando succede poi pone i problemi che abbiamo visto negli anni scorsi con il vaccino antinfluenziale e così via non so se vi può bastare assolutamente sì grazie 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 io mi scuso perché la mia venuta è proprio una meteora questo viene fra predica e va via però lo dovete incastrare tra mille impegni e loro lo sanno perché ho fatto l'impossibile per poter venire noi la ringraziamo e magari avremo un altro momento per condividere il lavoro che stiamo facendo perché domani presenteremo una scheda da 0 a 24 mesi proprio da condividere con i pediatri e gli operatori delle scuole per rilevare i segni precoci di vulnerabilità quindi magari in un altro momento ma quello sarà che è una cosa che è una cosa